Il tuo omonimo Riccardo Pecchi, la mediocrità di questo campionato, o perlomeno lo dicevano a qualcuno degli amici anche oggi pomeriggio, se si considera che la Fiorentina è andata in Champions un anno con 74 punti, quest'anno ci vai con circa 60, sono 14 punti in meno. Facevo un'analisi pochi giorni fa, leggendo un po' quello che ha emesso dal Consiglio federale, perché poi tra l'altro si sta creando un imbuto tra la Serie A e la Serie B, perché bene o male quelli che scendono risalgono e viceversa. Con la riforma che più o meno si sta appaventando diventerà praticamente impossibile o quasi andare dalla Lega Pro alla Serie B, con il risultato che nel giro di 4-5 stagioni spariranno una quantità enorme di piazze che vivono di calcio, che fanno vivere il calcio perché portano gente allo stadio. Ci ritroveremo in Serie A o in Serie B partite con 45 spettatori di cui 40 accreditati come stampa. Sì, ma non è però Riccardo neppure un bene per il calcio italiano che siamo arrivati a commentare questa sera un torneo in cui ci sono solo due squadre che contano, come è accaduto per anni in Portogallo, come è successo l'Europa, la Spagna e ragazzi, va bene questo, io non credo, perché se no qualcosa bisogna che cambia anche verso i quartieri alti di questa Serie A, perché una frattura come quella di quest'anno mai era accaduta in precedenza e questo ci deve fare meditare, perché 20 punti… 78, 77, 61… 61 sono 16 punti di differenza dalla terza, ragazzi, sono un abisso che ti fa capire tante cose. Le grandi hanno voluto questo, poi tutto a scendere, ma comunque il calcio ha seguito… Lo strappo è stato fatto da loro. Lo strappo è stato quello per cui ci ritroviamo in questo tipo di calcio. Ecco, in quest'ottica Ubi, proprio nel ragionamento che hanno appena tracciato i colleghi, quindi con una netta differenziazione tra i vertici e il resto, alla luce di questa rinascita della Fiorentina, diventa obbligatorio pensare alla Fiorentina in una seconda fascia? È impossibile dirlo adesso, perché ci sono troppe incognite, non si sa chi è il direttore sportivo, non si sa chi è l'allenatore, non si sa che tipo di acquisti vogliono fare, che non si sa se il progetto Mercafir va in porto o non ci va, ci sono talmente tante incognite che oggi è sparare proprio al buio. Io non mi sento di dire una cosa o un'altra. Io credo che dipende la società. Tanto gli investimenti più o meno si sa, quelli che ci vogliono per ritornare. Poi è chiaro, ci vuole un direttore all'altezza che ti indovina delle cose o meno, poi anche quelli bravi a volte sbagliano.